Un consiglio comunale aperto a tutte le componenti sociali ed economiche cittadine per coordinare le iniziative di sostegno ai risparmiatori ed unificarle sotto un'unica guida. Ad annunciarlo il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in merito alle polemiche scoppiate sul salvataggio di Monte Paschi e sui rimborsi ai risparmiatori di banche truri azzerati dal decreto salvabanchi di un anno fa. In molti, dal vescovo Riccardo Fontana al presidente della regione Enrico Rossi, hanno commentato e preso posizione, ha detto Ghinelli, adesso però urge organizzare un consiglio comunale aperto a tutti e unificare gli sforzi. Il consiglio si svolgerà probabilmente a gennaio. Intanto slitta all'inizio gennaio la cessione dei crediti deteriorati di tre delle quattro Good Bank, Banca Etruria, Banca Marche e Carichietti al fondo Atlante 2. L'operazione propedeutica alla cessione delle tre banche è UbiBanca. La chiusura dell'operazione, inizialmente prevista per fine 2016, è slittata a gennaio perché sarà necessario un nuovo passaggio con Bruxelles per assicurarsi che il processo di vendita abbia rispettato i criteri della concorrenza. La proposta di UbiBanca potrebbe infatti essere peggiorativa rispetto alle precedenti manifestazioni di interesse non vincolanti arrivate da alcuni fondi, che andranno dunque risentiti per capire se hanno interesse a rientrare in gioco.